L'anificio Subalpino, un'azienda familiare che ha 40 anni, di Biella, produciamo tessuti per abbigliamento, tutto rigorosamente made in Italy, anzi made in Biella. La nostra azienda vive di bello e ben fatto come tutti i principali attori del Made in Italy e la creatività per noi è fonte veramente continua di innovazione, di ricerca, facciamo mille prove ogni stagione per inserire tipologie nuove di tessuti, di materiale, di finissaggi, viviamo proprio di questo per arrivare alla nostra clientela con delle novità made in Italy. L'anificio Subalpino sostiene il Master di Città Studi organizzato in collaborazione con il Polidesign e il Politecnico di Milano perché è un Master molto interessante, io confesso se fossi giovane mi iscriverei e parteciperei. Si parla di design, quindi di creatività, di made in Italy, di bello e ben fatto, di sostenibilità e tracciabilità che per noi è un must, noi viviamo di tracciabilità proprio per diversificarci dal resto del mondo, tecnologia, oggi si vive di questa nuova epoca del digitale, della tecnologia applicata alle aziende, insomma una grande opportunità in più fatto in lingua inglese. Oggi viviamo tutti di export, la nostra piccola azienda fa l'80% di export, il fatto che sia un corso fatto in lingua inglese non può che preparare delle persone ad essere adattissime alle nostre aziende della filiera tessile. Quindi, bello e ben fatto 4.0 con il Master Fiber Design and Textile Processes a Città Studi e Polidesign. Grazie a tutti. Grazie a tutti.